tra baci galupo e giulianova i primi minuti sono di puro studio e le due scadre che provano a prendersi le misure undicesimo con cappelli e vatavo che si contendono un pallone a centrocampo sul quale impattano e si fanno male fuori entrambi al loro posto cerasi e benedetti baci galupo vasto marino pimpante con gallier che taglia orizzontale il campo ma manca il tempo e va a rifugiarsi in una zona d'angolo da dove non ne caccia nulla al ventunesimo si sporca i guantoni gerbic in uscita su un traversone ma al ventiduesimo si reca a raccogliere la sfera nel sacco cross di di giuseppe spizzata di persiani e palla nell'angolo basso destro alla rete 0 a 1 otto minuti dopo giglio rischia si fa per dire il raddoppio traversa con pallone che rientra in campo si scuote il baci galupo vasto marina al trentesimo con marino collo pieno sporcato con bocca nera in presa a terra poi al trentaquattresimo occasionissima fieroni in area si stoppa da solo al momento del tiro da ottimissima posizione e poi ancora marino al trentaseiesimo prima della chiusura del tempo con sfera a lato si va a riposo e si riprende con il ritmo sostenuto del vasto marina e l'intenzione della ricerca del pari è evidente ma la svolta la da luciano cerasi fuori le noci dentro si sé la barba a destra maffioni scalato in difesa e si sé appunto a destra posizione poi corretta con barlafanti a sinistra tolto di giuseppe il risultato andiamola a vedere al tredicesimo tiro in bocca a gerbic sussulto tre minuto dopo di fieroni che alza maldestro sul legno traverso e al diciottesimo si sé non perdona nonostante gerbic prova a rallentare la corsa della sfera ed è 0-2 al ventunesimo l'occasione giallorossa per portarsi sul 0-3 persiani toccato da tergo va giù in area penalti per giallorenzo mattea maria di sulmona ed esecuzione dello stesso numero 9 che si fa però respingere il tiro e sulla respinta la palla va fuori ma ci pensassi se due minuti dopo quando si prende il lusso di saltare il portiere e depositare comodamente in rete al trentunesimo rinviene il bacica lupo vasto marina tiro a giro di nuozi che non sorprende bocca nera ci prova ancora fieroni al trentaquattresimo ma bocca nera confeziona il clean sheet e si ripete poco prima del novantesimo sumarino lanciato a rete davvero i complimenti e si arriva così il triplice fischio finare con l'onore ai biancazzurri e sugli scudi i giallorossi allora mister siete stati comunque sempre in partita perché primo tempo determinato intenso giuliano acinico con una sostituzione che poi ha sballato un po i piani lato un po i piani si poi come dici tu il calcio fatto anche di episodi circostanze quindi siamo stati poco attenti noi ad adattarci alla variazione in campo e quindi alla fine molto efficaci voi però come dici tu a fronte anche di un gran caldo mi sembra che le due squadre sono espresse a grande ritmo soprattutto il primo tempo ma anche in gran parte il secondo tempo poi c'è stata questa variazione fieroni ha avuto le sue occasioni abbiamo contate tre se avesse qualcuno a fianco forse mi permetto di fare questa osservazione lo so lo so ma noi voglio dire noi abbiamo anche dei budget che sono quelli quindi alla fine facciamo anche di necessità virtù però il conto me l'hai portato tu è una squadra messa bene ripeto intensa quindi è stata sempre in partita fino all 1 a 0 lo so però poi alla fine però lei vuole è deluso perché lei voleva fare il risultato ma no ma perché magari uno vede un 3 a 0 sembra che il giorno ci abbia asfaltato mentre credo sia stata tutt'altra partita però questo ci non ci deve come dire abbattere anzi di dare degli esatto ci deve dare degli stimoli eventualmente dobbiamo far tesoro degli errori che abbiamo fatto e appunto lavorarci un po' su per ecco intraprendere questa questo percorso che dovrebbe terminare con speriamo con una bella salvezza grazie allora mister un esordio che se l'era immaginato allora un esordio così non me lo sono immaginato però però la sua firma mi lasci dire scuse se la interrompo perché a un certo punto nella ripresa ha fatto un cambio ha spostato maffioni nel suo ruolo a terzino sinistro ha spostato la barba ha messo sisse e ha stroncato la partita complimenti delle volte sono pure delle cose che si combina che vanno bene magari lei è troppo modesto sono cose che noi ci pensiamo pure durante l'allenamento perché sono tipi di giocatori tipo ci sei che che veramente sulle ripartenze può spezzare delle partite il ragazzo ancora non sta bene viene da un'invortunia quindi gradualmente con molta pazienza come lo stiamo facendo un pochetto con tutti vedi di paolo oggi stava fuori non possiamo rischiare niente siamo una squadra giovane quindi dobbiamo stare attenti pure in fase di recupero a tenere questi ragazzi dentro bene lei ha detto non possiamo rischiare niente e si è visto nel primo tempo un po troppo palla lunga e pedalare verso persiani e era per questo si era proprio per questo perché noi l'approccio della partita non l'abbiamo fatta bene 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 perché noi cerchiamo il palleggio cerchiamo le uscite cerchiamo di giocare da basso e non possiamo permetterci pure di lasciare persiani da solo perché altrimenti non finisce la partita e quindi cerchiamo di fare una manovra certe volte non ci riesce poi forse all'inizio della partita abbiamo sentito un attimo pure la tensione così e mettevamo sta palla lunga certe volte su persiani che per noi è un punto di riferimento importante